Middle England di Jonathan Coe, edito da Feltrinelli Il funerale si era concluso e anche il ricevimento stava volgendo al termine. Benjamin decise che era arrivato il momento di andare. «Papà», disse, «è ora di muoversi». «Bene», disse Colling, «vengo con te». Si diressero verso la porta e riuscirono a filarsela senza salutare nessuno. Le strade del villaggio erano deserte e silenziose sotto il sole del tardo pomeriggio. «Non dovremo sparire così», disse Benjamin, voltandosi a lanciare un'occhiata incerta verso il pub. «Perché no? Ho scambiato qualche parola con tutti quelli che mi interessavano. Su, portami alla macchina». Benjamin lasciò che suo padre gli prendesse il braccio e lo stringesse appena per essere più stabile. Con incredibile lentezza si diressero a piccoli passi verso il parcheggio del pub. «Non voglio andare a casa», disse Colling. «Non ce la faccio senza di lei. Portami da te». «Certo», rispose Benjamin con il cuore pesante. «Non ce la faccio senza di lei».